E' partita oggi la campagna Sanità Così Non Va, denuncia con noi, lanciata dalla Cisla Campania e dalle sue categorie e funzione pubblica, medici, università e pensionati, assieme alle unioni sindacali territoriali. Obiettivo dire basta a una sanità che non garantisce più il diritto alla salute, segnalando all'organizzazione sindacale la persistenza di sprechi, inefficienza e corruzione nella sanità regionale, come ha confermato a margine di una conferenza stampa il segretario regionale Lina Lucci. Significa che da questo momento in avanti, davanti a tutte le asla della campagna, davanti alle strutture ospedaliere più grandi, davanti alle strutture anche universitarie, ci sarà una presenza Cisla e delle sue categorie, tutte le categorie interessate del comparto, per raccogliere denunce di merito. Vogliamo dimostrare che ci sono persone che non vengono curate, ci sono persone che muoiono per assenza di sanità, ci sono persone che non trovano i presidi ospedalieri aperti, non ci sono i pronti soccorso, non c'è una medicina distrettuale di base che possa in qualche modo svilire le liste d'attesa presso gli ospedali. Insomma, quello che non funziona, non va, lo diciamo insieme alla collettività, ripeto, per dimostrare che facciamo un'azione di denuncia concreta, reale. All'incontro hanno preso parte anche Giampiero Tipaldi, segretario area metropolitana di Napoli, segretari generali delle federazioni napoletane di categoria, della funzione pubblica, Salvatore Altieri, dei medici Roberto D'Angelo, dell'Università Luigi Mastrantuono e dei pensionati Augusto Muro.